Carina Cascella contro Cecilia e Ignazio, due bestie che non vedevano l'ora di accoppiarsi Domenica Live, Carina Cascella contro Cecilia Rodriguez e Ignazio Mosera al Grande Fratello Vip. A Domenica Live si continua a parlare del caso del momento, la storia d'amore tra Ignazio Mosera e Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip. O forse è meglio parlare di triangolo amoroso, visto che nella vicenda è coinvolto pure Francesco Monte, ormai ex fidanzato della sorella di Belen. Nel salotto di Barbara D'Urso tutti hanno criticato duramente l'Argentina, ma hanno risparmiare critiche feroci e pesanti è stata Carina Cascella. L'ex opinionista di Uomini e Donne ha confidato di averti fatto per Cecilia nel momento in cui ha lasciato con coraggio e fermezza l'ex tronista ma quanto compiuto dopo dalla Rodriguez l'ha letteralmente disgustata. Carina ha evidenziato che Cecilia e Ignazio stanno facendo passare un cattivo messaggio in tv, tanto da parlare di situazione assolutamente deplorevole. Grande Fratello Vip, le dure parole di Carina, è deplorevole. Cecilia e Ignazio, due bestie che non vedevano l'ora di accoppiarsi ha dichiarato Carina Cascella in diretta tv. L'ex di Salvatore Angelucci non ha apprezzato il comportamento della Rodriguez che prima ha lasciato monte e poi si è velocemente concessa a Moser. La Cascella non crede molto alla storia tra la modella sudamericana e il ciclista. Ma quale amore? È sbottata Carina, che crede sia semplicemente una relazione passionale e nulla più. Il pensiero dell'opinionista ha trovato il consenso della maggior parte del pubblico, come si evince dai numerosi tv e in favore della Cascella. Cascella voce del popolo. Sottoscrivo tutto quello che ha detto su Cecilia. Standing Ovation. Ha cinguettato qualcuno. Mentre qualcun altro ha sottolineato, Standing Ovation per Carina Cascella, voce del popolo. E c'è pure chi propone, voglio Carina come opinionista al posto di signorini. Domenica live, tutti contro Cecilia e Ignazio tranne la Di Pietro. Oltre a Carina, altri ospiti di Domenica Live si sono scagliati contro Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per il loro comportamento all'interno della casa del grande fratello. A difendere la coppia solo Carmen Di Pietro che ha replicato, quando c'è amore non si possono prevedere certi atteggiamenti. Ciao!